La sala operativa della protezione civile regionale si è subito attivata quando una violenta onnata di maltempo si è abbattuta sulla Toscana nel weekend. A seconda delle zone sono cadute in un'ora accumulati da 90 a 110 mm di pioggia provocando allagamenti, crolli e breakout e purtroppo anche una vittima, un dirigente sportivo di 72 anni per Gentino Tanganelli ritrovato senza vita in un canale a margine di una strada della Retino, una delle province più colpite insieme a quelle di Siena, Grosseto, Livorno e all'Empolese. È stata una situazione molto grave che ha messo a dura prova specialmente il reticolo minore, le fognature, le zone urbane più soggette a questo tipo di fenomeni con allagamenti che hanno interessato purtroppo piani bassi, scantinati, seminterrati oltre alla viabilità e in particolare sottopassi. Il presidente della regione Enrico Rossi ha annunciato la dichiarazione dello stato di emergenza regionale e l'invio a Roma della richiesta di emergenza nazionale e dello stato di calamità naturale in considerazione dei danni provocati all'agricoltura. Gli assessori regionali Federica Fratoni e Vittorio Bugli hanno già avviato il confronto con i sindaci e le prefetture per una prima stima. La situazione è in questo momento sotto controllo, è stato un evento di per sé con svariate criticità dovute soprattutto a questi fenomeni di temporali intensi in poco tempo decumulati di acqua importanti però devo dire che c'è un ottimo presidio del territorio da parte prima di tutto dei sindaci, delle strutture di protezione civile, dei geni civili, volontari, cioè davvero il solito lavoro corale che vede anche un contributo fondamentale come sempre dei Vigili del Fuoco il quale il direttore ci ha detto che sono ad ora 157 gli interventi ancora attivi. Per la vittima del maltempo il Comune di Arezzo ha decretato una giornata di lutto cittadino.